Ciao ragazzi, come avrete senz'altro capito dal titolo, siamo arrivati al periodo che più amo in assoluto, il Natale. Un periodo dove veramente si è più buoni, si mangia tantissimo, ma è l'occasione per noi youtuber per ringraziare tutti voi iscritti dell'anno appena trascorso. E io credetemi, ho tantissimo di cui ringraziarvi perché per la prima volta nella mia vita sono arrivato a più di 2000 iscritti. Vi dico subito che sto realizzando un bellissimo speciale che uscirà a fine anno, però nel frattempo voglio deliziarvi ancora di più, o magari non ridirvi, chi lo sa, con questo speciale che ho creato negli ultimi giorni in compagnia del mio caro amico Mantei. Lo so che molti di voi aspettavano con ansia che io lo riportassi in un video ebbene ho deciso di accontentarvi. Lascio la parola a Mantei. Prego amico mio. Ciao ragazzi, io sono Mantei. Grazie mille per avermi seguito quest'anno e per aver seguito soprattutto anche Alex, che se l'è strameritato. Purtroppo dobbiamo salutarci perché il 2022 è finito. Io spero tanto che appreziate questo speciale dove io e Alex abbiamo ballato come degli sciocchi. Ci siamo anche molto divertiti. I nostri costumi erano davvero invidiabili, ammettetelo. Vabbè, lascio la parola ad Alex. Dopodiché godetevi il video, mi raccomando, ci conto. Ciao ciao. Grazie Mantei per avermi di nuovo lasciato la parola. Comunque, quello che vi ha anticipato Mantei, il video, lo vedrete tra poco. Ma io nel frattempo vi ricordo ancora una volta di lasciare un bel like, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi tre video che vedrete tra poco. Noi ci rivediamo a fine esposizione. Ciao. 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 Ciao.